Prima il dubbio, poi la certezza scaturita dalla lettura di alcune frasi sul profilo Facebook della figlia e la storia di un abuso consumato tra le mura domestiche di un padre nei confronti della figlia, una bambina che non ha ancora compiuto dieci anni, ad accorgersi che qualcosa non andava alla madre che ha notato strani comportamenti assunti dalla bambina, fino alla scoperta sul social network dei dialoghi col padre, una serie di comunicazioni che contenevano riferimenti ad una vera e propria relazione di natura intima. La bambina lo considerava il suo fidanzato e il padre le raccomandava di non raccontare a nessuno quello che succedeva tra loro, il silenzio e la complicità in cambio di regali. L'uomo, un accese di 34 anni, separato legalmente dalla moglie, aveva facoltà di tenere la loro bambina di 8 anni nel weekend. Nella casa del padre la bimba trascorreva anche le notti. possibilità interrotta dalle indagini condotte dal commissariato di pubblica sicurezza di Acireale che dopo l'articolata attività investigativa ha ricostruito la vicenda fino all'arresto dell'uomo raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania. L'uomo accusato di violenza sessuale su minore è stato portato nel carcere catanese Piazza Lanza. Per il padre adesso inizierà l'iter giudiziario per la bambina l'infanzia rubata da ricostruire.